Joseph Roth, la leggenda del santo bevitore per la piccola biblioteca Delfi, prima edizione 1939. Una sera di primavera dell'anno 1934, un signore di età matura scese gli scalini di pietra che da uno dei ponti della Senna conducono alle rive del fiume. Là sono soliti dormire, o meglio accamparsi, i vagabondi di Parigi, cosa nota quasi tutti, ma che pur merita ricordare in questa occasione. Uno di tali vagabondi veniva per caso incontro al signore maturo che, del resto, era vestito bene e dava l'impressione di un viaggiatore curioso di visitare i luoghi caratteristici di una città straniera. Il vagabondo aveva un aspetto pietoso e malinconico, proprio come tutti gli altri di cui condivideva la sorte, ma il signore ben vestito e maturo parve degno di una speciale attenzione, il perché non sappiamo. Era, come si è detto, già sera, e sotto i ponti in riva al fiume faceva più buio che sopra, sui ponti e sul lungo Senna. Il vagabondo dall'aspetto malinconico barcollava un po'. Sembrava non si accorgesse dell'anziano signore ben vestito. Costui, invece, che non barcollava affatto, ma veniva dritto col passo sicuro, si era evidentemente già accorto di lontano dell'uomo barcollante. Il signore maturo sbarrò addirittura il passo all'uomo malconcio e entrambi si fermarono l'uno di fronte all'altro. «Dove va, fratello?» chiese l'anziano signore ben vestito. L'altro lo guardò un momento, poi disse «Non sapevo di avere un fratello e non so dove la strada mi porta». «Io cercherò di indicare la strada», disse il signore, «ma non deve inquietarsi con me se la prego di un favore insolito». «Sono pronto a ogni servizio», risponde il vagabondo. «Vedo bene che lei ha qualche difetto, ma è Dio a portarla sulla mia strada. Lei avrà sicuramente bisogno di soldi. Non se la prenda male per queste parole. Io ne ho troppi. Non vuole dirmi francamente di quanto ha bisogno, almeno per il momento». L'altro ci pensò qualche secondo, poi disse «Venti franchi». «Ma è senz'altro troppo poco», rispose il signore. «Gliene occorreranno certamente duecento». Il vagabondo indietreggiò di un passo. Pareva sul punto di cadere. Tuttavia riuscì a rimanere in piedi, pur barcollante. Poi disse «È chiaro che preferisco duecento franchi ai venti, ma sono un uomo d'onore. Pare che lei non mi capisca. Il denaro che mi offre non posso accettarlo. E questo per i seguenti motivi. Primo, perché non ho il piacere di conoscerla. Secondo, perché non so come e quando potrò renderglielo. Terzo, perché lei non ha nemmeno la possibilità di sollecitare la restituzione. Non ho infatti un indirizzo. Sto quasi ogni giorno sotto un ponte o l'altro di questo fiume, ma, come ho già affermato una volta, sono un uomo d'onore anche senza indirizzo». «Anch'io non ho indirizzo», rispose il signore maturo. «Vivo anch'io ogni giorno sotto un ponte o l'altro. Ciò nonostante, la prego di accettare amichevolmente i duecento franchi, una somma ridicola del resto per un uomo come lei. Per quanto riguarda la restituzione, devo ora fare un discorso più lungo per spiegarle come mai non posso indicare, per esempio, una banca a cui poter rendere il denaro. Deve sapere che sono diventato cristiano dopo aver letto la storia della piccola Teresa di Lisieux. E adesso sono particolarmente devoto a quella statuetta della santa che è nella cappella di Santa Maria di Batignol e che lei non avrà difficoltà a ritrovare. Non appena dunque avrà i miseri duecento franchi, se la sua coscienza la spingerà a non rimanere in debito di questa somma ridicola, vada, la prego, nella chiesa di Santa Maria di Batignol e depositi là, nelle mani del prete che avrà appena finito di dire la messa, il denaro. Perché se c'è qualcuno a cui lei è debitore non può essere altri che la piccola Santa Teresa. Ma non si dimentichi, nella chiesa di Santa Maria di Batignol. Vedo, disse a questo punto il vagabondo, che lei ha compreso benissimo me e la mia onorabilità. Le prometto che manterrò la parola, ma posso andare alla messa solo la domenica. Va bene, la domenica, disse il signor anziano. Tolse duecento franchi dal portafoglio, li dette all'uomo barcollante e aggiunse, la ringrazio. Per me è stato un piacere, rispose questi, e svanì subito nel buio profondo. Infatti nel frattempo giù si era fatto scuro, mentre su, sopra i ponti in lungo fiume, si accendevano i lampioni argenti per annunziare la gaia notte di Parigi. Anche il signore ben vestito sparì nelle tenebre. A lui era realmente toccato in sorte il miracolo della conversione. E aveva deciso di condurre la vita dei più poveri, e per questo viveva sotto i ponti. Ma, tornando all'altro, costui era un bevitore, anzi, un ubriacone. Si chiamava Andreas e viveva la giornata, come molti bevitori. Tanto tempo era passato dall'ultima volta che aveva posseduto duecento franchi. E forse proprio per questo, perché era passato tanto tempo, tirò fuori, al fioco chiarore di quei rari lampioni che erano sotto i ponti, un pezzetto di carta e un mozzicone di matita, e si iscrisse l'indirizzo della piccola Santa Teresa e la somma di duecento franchi, che da quel momento le doveva. Salì per una delle scale che portano dalle rive della Senna a lungo fiume. Là, lo sapeva, c'era un ristorante. Ed egli entrò e mangiò e beve in abbondanza, spendendo molti soldi, portandosi via anche un'intera bottiglia per la notte, che aveva intenzione di passare sotto il ponte, come al solito. Si scelse anche un giornale dal cestino della carta straccia, non per leggerlo, ma per coprirsi. I giornali tengono caldo, come sanno tutti i vagabondi. La mattina seguente, Andreas si alzò più presso del solito, perché aveva dormito stranamente bene. Si ricordò, dopo lunga riflessione, che il giorno prima aveva vissuto un miracolo, un vero miracolo. E poiché pensava di aver dormito particolarmente bene, in quell'ultima notte calda coperto dal giornale, come da tanto non gli succedeva, decise anche di lavarsi, cosa che non aveva fatto da molti mesi, cioè durante la brutta stagione. Ma, prima di togliersi i vestiti, si toccò ancora una volta nella tasca sinistra, l'interna della giacca, dove, a quanto si ricordava, doveva trovarsi il resto tangibile del miracolo. Poi c'è un posto molto appartato sotto il muraglione della Senna, per lavarsi almeno il viso e il collo. Ma poiché gli parve che da ogni parte uomini, dei poveri uomini della sua stessa specie, degli sciagurati come all'improvviso si chiamò fra sé, lo potessero osservare mentre si lavava, rinunciò alla fine al suo progetto e si accontentò di immergere solo le mani nell'acqua. Dopodiché si rimise la giacca, di nuovo tocco con la mano il denaro nella tasca interna sinistra e si sentì tutto pulito e addirittura trasformato. Fece il suo giorno, uno dei suoi soliti giorni che ormai da tempo immemorabile era abituato a dissipare, deciso a recarsi anche oggi nella solita rue des quatre vans, dove si trovava il ristorante russo-americano Tari Bari e dove egli investiva in bevande scadenti un po' di quel denaro che il caso della giornata gli assegnava. Però al primo chiosco di giornali sulla sua strada si fermò, attirato dalle illustrazioni di alcuni settimanali, ma anche preso all'improvviso dalla curiosità di sapere che giorno fosse quello, che date e che nome avesse quel giorno. Comprò quindi un giornale e vide che era un giovedì e a un tratto si ricordò che lui era nato di giovedì e senza guardare la data decise che proprio quel giorno doveva essere il suo compleanno. E già in preda a una fanciullesca gioia per il giorno di festa non esitò più un attimo a sacrificare i buoni, anzi nobili, propositi e non entrò nel Tari Bari, ma giornale in mano in un locale migliore per bervi un caffè, magari corretto col rum e mangiare pane e burro. Andò quindi, tutto fiero nonostante il suo vestito cencioso, in un bistro per bene. Si sedette a un tavolo, lui che da tanto tempo era abituato solo a stare in piedi al banco, anzi a starsi appoggiato. Si sedette dunque e siccome davanti al suo posto c'era uno specchio non poteva evitare di osservare il suo viso e fu come fare di nuovo a conoscenza con se stesso. La cosa lo spaventò e subito comprese perché negli ultimi anni aveva tanto temuto gli specchi. Non era bene vedere con i propri occhi la propria rovina e finché non ci si doveva guardare era come se non si avesse affatto un viso o se avesse ancora quell'antico che risariva al tempo prima della rovina. Ma ora si spaventò, come si è detto, soprattutto perché confrontava la sua fisionomia con quella dei signori, benestanti, seduti vicino a lui. Una settimana prima si era fatto radere alla meglio da uno dei suoi compagni di sventura, che di quando in quando erano disposti, per una magra ricompensa, a radere un loro fratello. Ma ora che la decisione era di iniziare una nuova vita bisognava farsi radere sul serio con tutte le regole. Risolse di andare da un vero barbiere prima ancora di ordinare qualcosa. Detto fatto entrò in una bottega di barbiere. Tornato nel locale trovo occupato il posto dove era stato seduto prima e perciò si poteva vedere nello specchio solo di lontano, ma fu più che sufficiente per constatare che era cambiato, ringiovanito e imbellito. Era proprio come se dal suo viso uscisse uno splendore che rendeva insignificanti i vestiti laceri e il davanti della camicia visibilmente logoro e la cravatta a righe bianche e rosse annodata al colletto dagli orli sfilacciati. Si sedette allora il nostro Andreas e, consapevole del proprio rinnovamento, ordinò con quella voce sicura che aveva avuto un tempo e che adesso, come una vecchia caramica sembrava essergli ritornata, un caffè a rosserum. Il caffè gli venne servito e, come credete di notare, con tutto quel rispetto che viene di solito tributato dai camerieri ai clienti di riguardo. Ciò lusingò il nostro Andreas in modo particolare, accrebbe ancora la sua sicurezza e lo confermò nella supposizione che proprio quel giorno fosse il suo compleanno. Un solo signore seduto lì vicino osservò a lungo il vagabondo, si volse a lui e disse, vuole guadagnare un po' di soldi? Può lavorare da me. Proprio domani devo traslocare. E lei potrebbe aiutare mia moglie e anche gli imballatori? Mi pare abbastanza robusto. Può fare? Vuole? Certo che voglio, rispose Andreas. E quanto chiede per un lavoro di due giorni? Per domani è sabato? Domando il signore. L'appartamento, sa, è piuttosto grande e andrò ad abitare in uno ancora più grande. Possiedo anche molti mobili. Io ho da fare nel mio negozio. Bene, ci sto, disse il vagabondo. Beve qualcosa, chiese il signore, e ordinò due pernod. Il signore Andreas brindarono e si accordarono pure sul compenso. Era di duecento franchi. Ne beviamo ancora uno, chiese il signore dopo aver votato il primo pernod. Sì, ma questa volta pagherò io, disse Andreas, perché lei non mi conosce. Io sono un uomo d'onore, un lavoratore onesto. Guardi le mie mani e gli remostrò. Sono sporche, callose, ma mani oneste di lavoratore. Questo mi piace, esclamò il signore. Aveva degli occhi brillanti, un viso rosio da bambino e proprio nel mezzo due baffetti neri. In complesso era un uomo piuttosto gentile e ad Andreas piacque molto. Bevero quindi insieme e Andreas pagò il secondo giro. E quando il signore della faccia di bambino si alzò, Andreas scoprì che era grassissimo. Tiro fuori dal portafoglio il suo biglietto da visita e mi scrisse sopra l'indirizzo. Poi tolsi anche una banconota da cento franchi dallo stesso portafoglio e porse entrambi ad Andreas con queste parole. Così domani verrà di sicuro. Domattina per tempo alle otto. Non se ne dimentichi e riceverai il resto. E finito il lavoro si berrà di nuovo un aperitivo insieme. Arrivederci caro amico. E il signore se ne andò, il grassone con la faccia da bambino, e quello che più stupì Andreas fu che avesse tirato fuori l'indirizzo e i soldi dallo stesso portafoglio. Adesso che possedeva del denaro e aveva la prospettiva di guadagnare ancora di più, decise di procurarsi anche lui un portafoglio. A questo scopo si mise in cerca di un negozio di pelletterie. Nel primo che trovò sul suo cammino c'era una giovane commessa. Gli pareva assai carina, come stava dietro al banco, in un severo vestito nero, un davantino bianco sul petto, la testa riccioluta e un pesante cerchio d'oro al polso destro. Si tolse il cappello di fronte a lei e disse allegro, vorrei un portafoglio. La ragazza gettò una rapida occhiata al suo abito malandato, ma non c'era cattiveria nel suo sguardo. Voleva semplicemente valutare le possibilità del cliente, perché nel suo negozio si trovavano portafogli cari, di medio prezzo e da poco. Per risparmiarsi domande superflue salì subito su una scaletta e prese una scatola dallo scaffale più alto. Lassù, infatti, c'erano i portafogli riportati indietro dai clienti, che volevano prenderne altri in cambio di quelli. Così Andrea svide che le gambe della ragazza erano molto belle e che portava scarpe basse molto graziose e gli tornarono in mente quei tempi mezzo dimenticati, quando lui aveva accarezzato gambe simili e baciato simili piedini. Ma i volti non se li ricordava più, i volti delle donne, a eccezione di uno, quello per cui era stato in prigione. Intanto la ragazza scese dalla scala, aprì la scatola e lui scelse un portafoglio tra quelli che stavano in cima a tutti, senza nemmeno guardarlo bene. Pagossi mise il cappello e sorrise alla ragazza, la quale gli restituì il sorriso. Distratto, si infilò in tasca il portafoglio nuovo, ma lasciò stare i soldi dove erano. Il portafoglio gli parvi all'improvviso senza senso, piuttosto era tutto preso dalla scala, dalle gambe e dai piedi della ragazza. Per questo si avviò verso Montmartre, a cercare quei posti dove un tempo si era divertito. E in una stretta viuzza, in salita, trovò anche la taverna con le ragazze. Si sedete a un tavolo con parecchie di loro, pagò da bere a tutte e ne scelse una, quella che gli era seduta più vicino. Dopodiché andò con lei e, benché fosse solo pomeriggio, dormì fino all'alba del mattino seguente e i padroni, che erano genti di buon cuore, lo lasciarono dormire. Il mattino dopo, venerdì, andò al lavoro dal grassone. Doveva aiutare la signora a imballare e, anche se gli imballatori facevano già il loro mestiere, restavano ad Andreas tante cose meno pesanti ma delicate di cui occuparsi. Nel corso della giornata sentì la forza tornare nei suoi muscoli e il lavoro dargli gioia, perché lui era cresciuto nel lavoro, minatore come suo padre e anche un po' contadino come il nonno. Se solamente la padrona di casa non l'avesse tanto turbato con i suoi ordini assurdi, spedendolo nel medesimo istante di qua e di là, così da fargli perdere la testa, ma anche lei era agitata, Andrea sua capiva. Poteva anche non piacerle il cambiare casa, come se niente fosse, e magari aveva anche paura della casa nuova. Stava in piedi vestita di tutto punto, col soprabito, il cappello e i guanti, la borsetta e l'ombrello, benché avrebbe dovuto sapere che c'era ancora un giorno e una notte e anche l'indomani da passare in quella casa. Di tanto in tanto sentiva la necessità di darsi il rossetto sulle labbra. Andreas lo capiva benissimo, era una signora. Andreas si lavò tutto il giorno. Quando ebbe finito la padrona gli disse, torni domattina puntuale alle sette. Dalla bossetta tolsi un borsellino con dentro monete d'argento. Cerco a lungo, tirò fuori un pezzo da dieci franchi, ma lo riprese. Poi si decise a prendere cinque franchi. Ecco una mancia, disse, ma non se la beva tutta, aggiunse, e domani sia qui puntuale. Andreas ringraziò, andò via, si beve tutta la mancia, ma non di più, e passò quella notte in un piccolo albergo. Si fece svegliare alle sei di mattina e, fresco, tornò al lavoro. Così la mattina seguente arrivò ancora più presto degli imballatori. La padrona di casa era già là in piedi, come il giorno prima, tutta vestita, con cappello e guanti, quasi non si fosse neppure ammessa a dormire, e gli disse gentilmente, vedo che ieri ha seguito la mia raccomandazione e che davvero non si è bevuto tutti i soldi. Andreas si mise dunque al lavoro. accompagnò anche la signora nella nuova casa in cui traslocavano e aspettò il ritorno del gentile signore Grasso che gli pagò il compenso promesso. Le invito ancora a fare una bevuta, disse il signore Grasso, venga con me, ma intervenne la padrona di casa e sbarrò decisamente il passo a suo marito, dicendo, ora si mangia. Così Andreas se ne andò via da solo, beve solo e mangiò solo, poi entrò ancora in due taverne per bere qualcosa al banco. Beve molto, ma non si ubriacò, stava attento a non spendere troppo perché l'indomani voleva andare, memore della sua promessa, nella cappella di Santa Maria di Batignol e pagare la piccola Santa Teresa almeno una parte del suo debito. Ciò nonostante, beve quanto bastava per non riuscire a trovare, con occhio sicuro e quell'istinto che solo la povertà conferisce, l'albergo più economico del quartiere. Così trovo un albergo un poco più caro e anche lì pago in anticipo per via degli abiti logori e perché era senza bagaglio, ma non gliene importava nulla e dormì tranquillamente fino al giorno inoltrato. Lo svegliò il rintronare delle campane di una chiesa vicina e subito seppe che giorno importante era quello, una domenica, e che lui doveva andare dalla piccola Santa Teresa a pagare il debito. In un attimo si infilò i vestiti e si avvicinò a passi veloci verso la piazza dove era la cappella. Tuttavia non giunse in tempo per la messa delle dieci, già gli veniva incontro il fiume della gente che usciva di chiesa. Domandò quando cominciava la prossima messa e gli fu detto a mezzogiorno. Si sentiva un po' a disagio, così in piedi davanti all'entrata della cappella e aveva ancora un'ora di tempo e non la voleva di certo passare per la strada. Si guardò intorno per cercare un posto dove aspettare e a destra, quasi di fronte alla cappella, scorse un bistrò e vi si avviò, deciso ad attendere lì l'ora che gli rimaneva. Ordinò un pernod con la sicurezza di chi sa di avere del denaro in tasca e lo beve con la sicurezza di uno che già ne ha bevuti molti nella sua vita. Ne beve ancora un altro e un terzo, aggiungendo sempre meno acqua nel suo bicchiere. All'arrivo del quarto bicchiere non sapeva più se ne aveva bevuti due, cinque o sei. Non ricordava neanche più come mai era capitato in quel caffè e da quelle parti. Sapeva soltanto che lì aveva un impegno ad assolvere, un impegno d'onore e pagò, si alzò, uscì dalla porta con passo ancora sicuro, vide la cappella di fronte a sinistra e subito seppe di nuovo dove, perché e a che scopo si trovava lì. Stava proprio per muovere il primo passo verso la cappella quando udì all'improvviso chiamare il suo nome. Andreas, gridava la voce, una voce di donna. Giungeva da tempi ormai sepolti. Egli si fermò e volse il capo a destra da dove era venuta la voce e subito riconobbe il viso per causa del quale era stato in prigione. Era Caroline. Caroline, benché avesse un capello e un vestito che non le conosceva, il viso era quello ed egli non esitò a buttarsi nelle braccia che lei gli aveva subito aperto. Che incontro, lei disse. Ed era davvero la sua voce, la voce di Caroline. Sei solo, chiese. Sì, sono solo. Vieni, ci spiegheremo, disse lei. Sì, ma un appuntamento, lui rispose. Con una donna, lei chiese. Sì, disse lui timoroso. Con chi? Con la piccola Teresa, rispose. Ma lei non ha nessuna importanza, disse Caroline. In quel momento passò un tassì e Caroline lo fermò alzando l'ombrello. Subito ha detto un indirizzo al guidatore e, prima ancora che Andreas se ne redesse conto, era seduta nella vettura a fianco a Caroline. E già andavano, già sfrecciavano via, come sembrava ad Andreas, per strade in parte conosciute, in parte sconosciute, in mezzo a chissà quali campi. Arrivaroni in una località dei dintorni, di un verde tenero, del verde che precede la primavera, ed era il paesaggio in mezzo a cui si fermarono, anzi il giardino dietro i cui radialberi si nascondeva, discreto un ristorante. Caroline scese per prima, con quell'impeto da militare dall'assalto che lui le conosceva. Uscì per prima, scavalcando le sue ginocchia, pagò e lui la seguì. Entrarono nel ristorante e si sedettero su uno di quei sedili di peluche verde, come una volta quando erano giovani, prima della prigione. Fu lei a ordinare il pranzo, come sempre, e lo guardava, lui non osava guardarla. Dove sei stato tutto questo tempo? Gli chiese. Dappertutto e da nessuna parte, disse lui. Sono due giorni che ho ripreso a lavorare. Per tutto il tempo, da quando non ci siamo più visti, ho bevuto e dormito sotto i ponti, come facciamo tutti noi. Tu forse avrai vissuto meglio. Con uomini, magari, aggiunse dopo un po'. E tu? Lei chiese. Anche se te ne stai ubriaco e senza lavoro e dormi sotto i ponti, hai ancora il tempo e l'opportunità di fare conoscenza con una Teresa. E se per pur a caso non fossi arrivata io, saresti andato proprio da lei? Andreas non rispose. Rimase in silenzio finché non terminarono di mangiare la carne. Poi venne il formaggio e la frutta. E, bevuto l'ultimo sorso di vino dal suo bicchiere, lui ebbe di nuovo all'improvviso paura. Quella paura che tanti anni prima, al tempo della sua vita in comune con Caroline, aveva così spesso provato. E ancora una volta voleva fuggirle e chiamò, cameriere il conto, ma lei lo interruppe. Questo cameriere riguarda me. Il cameriere, un uomo maturo di molta esperienza, disse. Ha chiamato per primo il signore. Fu così Andreas a pagare. Nel farciò aveva tolto tutto il denaro dalla tasca interna della giacca e, dopo aver pagato, constatò con un certo spavento, anche se mitigato dal vino bevuto, di non aver più intera la somma che doveva alla piccola santa. Ma di questi tempi mi succedono tanti miracoli uno dopo l'altro, disse fra sé e sé, che sicuramente la settimana ventura riuscirò a mettere insieme e a restituire il denaro dovuto. Ma allora sei ricco, disse Caroline per la strada. Ti fai pure mantenere da questa piccola Teresa. Andreas non rispose nulla e così lei fu convinta di avere ragione. Vuole assolutamente essere accompagnata al cinema e lui andò al cinema con lei. Dopotanto vide di nuovo un film, ma era passato tanto tempo dall'ultimo che aveva visto e questo ora non riusciva quasi più a capirlo e si addormentò sulla spalla di Caroline. Dopo andarono in una sala da ballo, dove si suonava la fisarmonica ed era passato tanto tempo dall'ultima volta in cui Andreas aveva ballato che, quando cercò di farlo con Caroline, non riuscì proprio più a ballare bene. Allora gliela portarono via altri ballerini e era ancora fresca d'aspetto e desiderabile. Lui stava al tavolo solo e di nuovo beveva per no. Era come ai vecchi tempi, quando Caroline ballava con altri lui beveva solo al tavolo e perciò la strappò via all'improvviso con violenza dalle braccia di un ballerino e disse, si va a casa. La prese per la nuca e non la lasciò più, pagò e andò con lei a casa. Non abitava lontano e così tutto era come ai vecchi tempi, ai tempi prima della prigione. La mattina molto presto si svegliò. Caroline dormiva ancora. Davanti alla finestra aperta cinguettava solitario un uccello. Per un po' rimase coricato con gli occhi aperti, non più di qualche minuto. In quei pochi minuti riflettè. Gli pareva che da lungo tempo non gli fossero successe tante cose strane come in quell'unica settimana. D'un tratto volse il viso e alla sua destra c'era Caroline. Quello che ieri incontrandola non aveva visto lo notò ora. Si era fatta vecchia, pallida, gonfia, col respiro pesante dormiva il sonno mattutino di una donna che invecchia. Riconobbe il mutamento procurato dal tempo che era trascorso anche per lui e riconobbe anche il mutamento in se stesso e decise di alzarsi subito senza svegliare Caroline e di andarsene via, altrettanto cautamente o meglio fatalmente, di come si erano entrambi incontrati il giorno prima. Si vestì furtivo e se ne andò, facendo il suo ingresso in un nuovo giorno, in uno dei suoi soliti nuovi giorni. Anzi, non proprio in uno dei soliti, perché toccandosi nella tasca sinistra del petto, dove da un po' di tempo teneva i soldi guadagnati o trovati che fossero, si accorse che gli era rimasto soltanto un biglietto da 50 franchi, insieme con qualche monetina. E lui che già da lunghi anni non sapeva cosa volesse dire il denaro e non gli aveva dato più alcuna importanza, si spaventò ora come si spaventa chi è abituato ad avere sempre denaro in tasca ed è preso un tratto dall'imbarazzo di trovarcene ancora pochissimo. A un tratto nelle strade deserte dell'alba, sembro a lui, senza soldi da mesi numerevoli, di essere diventato improvvisamente povero. E questo perché non sentiva più in tasca tutte quelle banconote che aveva posseduto negli ultimi giorni. I tempi della sua miseria gli apparivano molto lontani e aveva l'impressione di aver speso per Caroline, con spavalderie e anche leggerezza, la somma che avrebbe dovuto garantirgli il tenore di vita che gli competeva. Era in collera con lei e a un tratto lui, che non aveva mai dato importanza al fatto di possedere del denaro, cominciò ad apprezzarne il valore. D'un tratto trovò che possedere 50 franchi era ridicolo per un uomo del suo valore e soprattutto sentì impellente la necessità, anche solo per chiarire con se stesso il valore della propria persona, di riflettere su di sé in pace davanti a un bicchiere di pernod. Scelse fra i locali più vicini quello che più gli piaceva si sedette e ordinò un pernod. Mentre lo beveva gli venne in mente che in fondo lui stava a Parigi senza permesso di soggiorno e guardò i suoi documenti. Così trovò che lo avevano proprio espulso perché lui era arrivato in Francia come minatore e veniva a Dolsovice nella Slesia Polacca. Poi, mentre spiegava davanti a sé sul tavolo i documenti laceri, ricordò come un giorno, molti anni prima, fosse venuto in Francia perché sul giornale c'era la notizia che cercavano dei minatori. E lui aveva desiderato tutta la vita di andare in un paese lontano e così aveva lavorato in una miniera di Quebec e preso alloggio presso dei suoi connazionali, i coniugi Sheybeck. Amò la donna e siccome il marito un giorno voleva picchiare la morte, lui, Andreas, aveva picchiato il marito fino ad ammazzarlo. Poi era stato in prigione per due anni. Quella donna era appunto Caroline. A tutto ciò pensava Andreas, osservando i suoi documenti ormai non più validi. E allora ordinò un altro per Nod, per la sua grande infelicità. Quando alla fine si alzò sentì come una specie di fame, quella fame che può salire solo chi beve. Si tratta di una forma speciale di imbramosia, ma non di qualcosa da mangiare, che dura solamente pochi secondi e subito si placca non appena chi l'avverte si immagina una precisa bevanda che sembra di suo gusto in quel preciso momento. Già da tempo Andreas aveva dimenticato il proprio cognome, ma ora, dopo aver guardato anche una sola volta i suoi documenti, si ricordò che si chiamava Kartak, Andreas Kartak, ed era per lui come se solo ora riscoprisse se stesso dopo lunghi anni. Con tutto ciò provava rancore, in qualche modo, verso il destino che non gli aveva più mandato, in questo caffè come l'ultima volta, un grassone coi baffi e la faccia da bambino che gli rendesse possibile guadagnare altri soldi. Perché a nulla si abitano gli uomini più facilmente che ai miracoli se si sono ripetuti una, due, tre volte. Sì, la natura degli uomini è tale che subito vanno in collera, se non capita a loro di continuo tutto quanto sembra aver loro promesso un destino casuale e passeggero. Così sono gli uomini. E che altro potremmo aspettarci da Andreas? Trascorse perciò il resto della giornata in diverse taverne e si adattò all'idea che il tempo dei miracoli da lui vissuto fosse passato, passato per sempre. E che ora fossero cominciati di nuovo i suoi vecchi tempi. E deciso a quella lenta distruzione a cui i bevitori sono sempre pronti, ciò che i sobri non proveranno mai, Andreas tornò di nuovo sulle rive della Senna sotto i ponti. La dormì un po' di giorno, un po' di notte, come da un anno era sua abitudine, facendosi prestare ogni tanto una bottiglia di acquavite da questo o da quello dei suoi compagni di sventura, fino alla notte fra giovedì e venerdì. Quella notte infatti sognò che la piccola Teresa veniva da lui con l'aspetto di una fanciulla dei riccioli biondi e gli diceva «Perché non sei stato da me la scorsa domenica?» E la piccola Santa era proprio come tanti anni prima egli si era immaginato sua figlia. E lui non aveva figlie. In sogno disse la piccola Teresa «Ma come mi parli? Hai dimenticato che io sono tuo padre?» E la piccola rispose «Perdona, padre, ma fammi questo piacere e domenica mattina vieni da me nella chiesa di Santa Maria di Batignol». Dopo questa notte in cui aveva avuto il sogno, si alzò tutto fresco, tale e quale una settimana prima, quando ancora gli accadevano i miracoli, quasi che prendesse il sogno per un vero miracolo. Anche questa volta pensò di lavarsi nel fiume, ma prima di togliesi la giacca si toccò nella tasca sinistra con la vaga speranza di poterci trovare ancora un po' di denaro, di cui magari non sapeva nulla. Si toccò nella tasca sinistra interna della giacca e la sua mano non trovò una sola banconota, bensì quel portafoglio di cuoio che aveva comprato qualche giorno prima. Lo tirò fuori, era un portafoglio da poco, già usato, già barattato, come era ad aspettarsi. Un cuoio ruvido di vacchetta. L'osservò, non si ricordava più di averlo comprato né quando. «Come mai ce l'ho?» si chiese. Alla fine l'aprì e vide che aveva due scomparti. Guardino entrambi e in uno dei due c'era una banconota. La tolse dal portafoglio. Era un biglietto da mille franchi. Allora si mise i mille franchi nella tasca dei pantaloni, andò all'arriva del fiume e senza curarsi dei suoi compagni di sventura, si lavò la faccia e persino il collo, quasi con allegria. Poi indossò di nuovo la giacca e fece il suo ingresso nel giorno. Cominciò la sua giornata entrando in una tabaccheria per comprare delle sigarette. Gli rimanevano ancora degli spiccioli che bastavano per le sigarette, ma non sapeva in quale occasione avrebbe potuto cambiare i mille franchi tanto miracolosamente trovati nel portafoglio, perché possedeva già tanta esperienza delle cose del mondo da intuire che agli occhi della gente, cioè della gente che conta, esisteva un significativo contrasto fra il suo abito, il suo aspetto e una banconota da mille franchi. Nonostante ciò, coraggioso com'era ormai dopo il rinnovarsi del miracolo, decise di mostrare la banconota. Fece tuttavia uso di quel po' di astuzia che gli era rimasto per dire al signore della cassa della tabaccheria, per favore mi farebbe comodo cambiare i mille franchi, ma se non può ho anche spiccioli. Con stupore di Andreas, il signore della tabaccheria disse «Anzi, avevo bisogno di un biglietto da mille franchi, lei mi capita proprio a proposito», e il proprietario cambiò il biglietto. Andreas rimase ancora un po' in piedi al banco e beve tre bicchieri di vino bianco, quasi per riconoscenza verso il destino. Mentre se ne stava così al banco, fu attirato da un disegno in cornice, appeso alla parete dietro le larghe spalle del padrone, e questo disegno gli ricordò un vecchio compagno di scuola di Olsovice. Domandò «Chi è quello? Mi pare di conoscerlo!». Subito il padrone e tutti gli avventori che stavano al banco sbottarono in una risata grandiosa ed esclamarono in coro «Come non lo riconosce?». Si trattava in effetti del grande calciatore Kaniak, oriundo della Slesia, ben noto a ogni persona normale. Ma come potevano conoscerlo degli alcolizzati che vivevano sotto i ponti della Senna, qual è ad esempio il nostro Andreas? Però, siccome si vergognava e soprattutto aveva appena cambiato i mille franchi, egli disse «Certo che lo conosco, anzi è mio amico, ma il disegno non mi pareva riuscito bene». E poi, perché non gli facessero altre domande, pagò in fretta e se ne andò. Adesso sentiva di aver fame. Cercò la più vicina trattoria, mangiò e beve un vino rosso e dopo il formaggio prese un caffè e decise di passare il pomeriggio in un cinema. Ma non sapeva ancora in quale. Si incamminò allora sui grandi boulevard, cosciente di possedere in quel momento tanti soldi quanti ciascuno dei signori benestanti che poteva incontrare per la strada. Fra l'opera e il boulevard des Capucines, cercò un film che gli piacesse e alla fine ne trovò uno. Sul cartellone pubblicitario che annunciava questo film era rappresentato un uomo che intendeva chiaramente perdersi in un'avventura esotica. Si trascinava, come mostrava il cartellone, in un deserto spietato, bruciato dal sole. Andreas entrò in questo cinema. Vide il film dell'uomo che camminava nel deserto, bruciato dal sole. E già quasi trovava simpatico l'eroe del film, se lo sentiva vicino quando, bruscamente, il film piegò verso un lieto fine che nessuno si aspettava. E l'uomo del deserto fu salvato da una carovana di scienziati che passava di lì e ricondotto nel grembo della civiltà europea. A quel punto Andreas perse ogni simpatia per l'eroe del film. E già voleva alzarsi quando sullo schermo apparve un'immagine di quel suo compagno di scuola di cui, poco prima, stando alla mescita, aveva visto il ritratto dietro alle spalle del padrone. Era il grande carciatore Kaniak. Andreas si ricordò allora che una volta, vent'anni prima, era stato con lui nello stesso banco e decise di informarsi subito l'indomani se il suo vecchio compagno si trovasse a Parigi. Infatti il nostro Andreas aveva in tasca non meno di 980 franchi. E questo non è poco. Ma ancora prima di uscire dal cinema, gli venne in mente che non aveva alcun bisogno di aspettare fino all'indomani mattina per avere l'indirizzo del suo amico e compagno di scuola, soprattutto ricordando la somma piuttosto elevata che teneva nella tasca. Ormai ricordando il denaro che gli rimaneva, era diventato così coraggioso che decise di informarsi alla cassa dell'indirizzo del suo amico, il celebre calciatore Kaniak. Aveva anche pensato che a questo scopo bisognasse rivolgersi personalmente al direttore del cinema. Ma no. Chi era in tutta Parigi tanto conosciuto quanto il calciatore Kaniak? Anche l'inserviente sapeva il suo indirizzo. Abitava in un albergo degli Champs-Élysées. L'inserviente gli disse anche in quale, e subito il nostro Andreas vi si recò. Era un albergo signorile, piccolo e silenzioso, uno di quegli alberghi dove abitano di solito i calciatori e i pugili, l'élite dei nostri giorni. Andreas nella hall si sentì un po' fuori posto, e anche al personale dell'albergo fece una strana impressione. Ciò nonostante, gli dissero che il celebre calciatore Kaniak era in casa, pronto in qualsiasi momento a venire nella hall. Scesi infatti dopo pochi minuti, e tutti e due si riconobbero subito. Stando ancora in piedi, si scambiarono vecchi ricordi di scuola, poi andarono insieme a cena, e fra i due regnava grande allegria. Cenarono insieme, e così avvenne che il celebre calciatore facesse al suo malandato amico la seguente domanda. Come mai hai questo aspetto così malandato? E cosa sono questi stracci che hai addosso? Sarebbe terribile, rispose Andreas, se ti raccontassi come tutto questo è accaduto, e sciuperebbe anche molto la gioia del nostro felice incontro. Non perdiamoci parole sopra, parliamo piuttosto di qualcosa di allegro. Ma io ho tanti vestiti, disse il famoso calciatore Kaniak, e sarà una gioia per me dartene qualcuno. Sei stato mio compagno di banco e mi hai lasciato copiare. Che cosa vuoi che significhi un vestito per me? Dove te lo devo mandare? Non me lo puoi mandare, rispose Andreas. E questo per il solo fatto che io non ho un indirizzo. Da qualche tempo, infatti, vivo sotto i ponti della Senna. In questo caso prenderò per te una camera, disse il calciatore Kaniak, semplicemente per poterti regalare un abito. Vieni. Dopo che ebbero mangiato, se ne andarono, e il calciatore Kaniak affittò una camera, e questa costava 25 franchi al giorno ed era vicina a quella magnifica chiesa di Parigi conosciuta col nome di Madeleine. La camera era al quinto piano e Andreas e il suo amico dovettero prendere l'ascensore. Naturalmente Andreas non aveva bagagli, ma nel portiere né il ragazzo dell'ascensore né chiunque altro del personale dell'albergo se ne stupì. Era semplicemente un miracolo e all'interno del miracolo non c'era nulla di cui ci si possa stupire. Quando furono nella camera, il calciatore Kaniak disse al suo compagno di banco Andreas, forse ti serve del sapone. La gente come me, rispose Andreas, può vivere anche senza sapone. Penso di vivere qui una settimana senza sapone e mi laverò lo stesso. Piuttosto vorrei che si ordinasse subito qualcosa da bere in onore di questa camera. Il calciatore ordinò una bottiglia di cognac e insieme la bevero fino all'ultimo goccio. Poi lasciarono la camera e presero un Tassip e Montmartre, cioè per quei caffè dove c'erano le ragazze e dove Andreas era stato appena pochi giorni prima. Dopo essere rimasti lì due ore seduti a scambiarsi i ricordi dei tempi di scuola, il calciatore accompagnò Andreas a casa, nella camera d'albergo che gli aveva affittato e disse, è tardi ora, ti lascio solo e domani ti mando due vestiti. Hai bisogno di soldi? No, rispose Andrea, sono 980 franchi e non è poco, vai pure a casa. Tornerò fra due o tre giorni, disse l'amico, il calciatore. Il numero della camera dove ormai abitava era l'89. Appena si trovò solo in questa stanza, Andreas si mise a sedere nella comoda poltrona ricoperta di tela rossa e prese a guardarsi intorno. Innanzitutto vide la tappezzeria di seta rossa, cosparsa di teste di pappagallo color oro tenue, poi tre bottoni color avorio alla parete, a destra dello stipite della porta vicino al letto vide il tavolino da notte e sopra la lampada con un paralume verde scuro e più lontano una porta con una maniglia bianca, dietro la quale sembrava ci fosse nascosto qualcosa di misterioso, almeno per Andreas. C'era poi vicino al letto un telefono nero messo in modo che, anche stando sdraiati, si poteva facilmente afferrare con la mano destra il ricevitore. Andreas, dopo aver asservato tutto a lungo, con l'intenzione anche di acquistare familiarità con la camera, fu preso a un tratto dalla curiosità. La porta con quella maniglia bianca lo infastidiva e, nonostante la sua paura e la poca dimestichezza con le camere d'albergo, si alzò e decise di guardare dove conduceva quella porta. Doveva essere certamente chiusa, aveva pensato, e quella fu la sua meraviglia quando la porta, quasi prevenendolo, si aprì da sé. Vide allora che si trattava di una stanza da bagno con le piastrelle lucicanti, una vasca bianca e splendente, una toilette, con quello, per farla breve, che nel suo ambiente si sarebbe potuto chiamare una latrina. In quel momento senti anche il bisogno di lavarsi e lasciò correre nella vasca dai due rubinetti acqua calda e fredda, e mentre si spogliava per entrarvi si rammaricò anche di non avere una camicia di ricambio, perché aveva visto, togliendosela, che quella che aveva indosso era molto studica e temeva già in anticipo l'attimo in cui, uscito dal bagno, avrebbe dovuto rimetterla. Entrò nella vasca consapevole che da lungo tempo non si era più lavato, fece quel bagno proprio con volutà, si alzò, si rivestì e poi non sapeva che altro fare di sé. Più per imbarazzo che per curiosità aprì la porta della camera, uscì sul corridoio e vi scorse una giovane donna che in quel momento usciva dalla sua camera proprio come lui. Era bella e giovane, così gli parve. Gli ricordava la commessa del negozio dove aveva acquistato il portafoglio e un po' anche Caroline, così che si inchinò lievemente davanti a lei e la salutò, e poiché quella gli rispose con un cenno del capo, si fece animo e le disse senza esitare, lei è bella. Anche lei mi piace, rispose la ragazza, un attimo, forse ci vedremo domani, e scomparve nel buio del corridoio, ma lui bisognoso d'amore come era improvvisamente diventato, guardò il numero della porta dietro cui lei abitava. Era il numero 87, se lo impresse sul cuore. Tornò in camera sua, stete in attesa, in ascolto, e già si era deciso a non aspettare l'indomani per incontrarsi con la bella ragazza, anche se il susseguirsi quasi in interrotto dei miracoli negli ultimi giorni lo aveva già convinto che la grazia si era posata su di lui, pure riteneva proprio per questo di essere autorizzato a una specie di spavalderia. Così da dover anche, diciamo per gentilezza, prevenire la stessa grazia senza offenderla minimamente. Quando gli parve di sentire i passi leggeri della ragazza del numero 87, apri appena un po' la porta della sua camera e vide che era proprio lei che tornava. Quello che invece non notò, certo per la sua lunga mancanza di esercizio, fu il particolare non trascurabile che anche la ragazza si era accorta di lui che spiava. Così che la ragazza fece in fretta e furia ordine in camera sua, un ordine più apparente che reale come aveva imparato dal mestiere e dall'abitudine. Spense il lume centrale, si sdraiò sul letto e alla luce della lampada del tavolino da notte prese un libro e si mise a leggerlo, ma era un libro che aveva già letto da tanto tempo. Dopo un po' sentì bussare timidamente la porta, come del resto si aspettava e Andreas entrò. Rimase fermo sulla soglia pur essendo già sicuro che dopo un istante sarebbe stato invitato ad avvicinarsi. La bella ragazza non si mosse dalla sua posizione e non posò nemmeno il libro, chiese soltanto, e lei che cosa desidera? Andreas, che per il bagno, il sapone, la poltrona, le teste di papagallo della tapezzeria e il vestito si sentiva più sicuro, rispose, non posso aspettare fino a domanica la signorina. La ragazza taceva. Andreas le si avvicinò, le chiese che cosa leggeva e disse francamente, a me i libri non interessano, io sono qui soltanto di passaggio, disse la ragazza sul letto, rimango soltanto fino a domenica, dal lunedì infatti devo ritornare in scena a Cannes. E che cosa fa? chiese Andreas. Sono ballerina al casino, mi chiamo Gabby. Non ha mai sentito il mio nome? Sì, certo, lo conosco dai giornali, menti Andreas, e stava per aggiungere che mi servono per coprirmi, ma si trattenne. Si sedete sulla sponda del letto e la ragazza non ebbe nulla in contrario, posò anzi il libro e Andreas rimase fino all'alba nella camera numero 87. La mattina di sabato Andreas si svegliò con la ferma decisione di non separarsi più dalla bella ragazza fino alla sua partenza. Anzi, in lui già sbocciava il tenero pensiero di un viaggio a Cannes con la giovane donna, giacché come tutti i poveri e soprattutto i bevitori poveri, era portato a considerare grandi le piccole somme che aveva in tasca. Quella mattina contò i suoi 980 franchi ancora una volta e siccome erano in un portafoglio e il portafoglio era nella sua tasca di un vestito nuovo, la somma gli parve dieci volte più grande e così non si irritò affatto quando, un'ora dopo che l'aveva lasciata, una bella ragazza entrò da lui senza bussare e poiché questa gli chiedeva come avrebbero passato insieme il sabato prima della sua partenza per Cannes, egli rispose a caso Fontainebleau. Da qualche parte, come in sogno, aveva forse udito questo nome, ad ogni modo non sapeva perché è come mai gli era venuto sulle labbra. Presero un tassi e partirono per Fontainebleau dove risultò che la bella ragazza conosceva un buon ristorante in cui si potevano mangiare buone cose e bere buon vino. Conosceva anche il cameriere e lo chiamava per nome e se il nostro Andreas fosse stato per natura geloso avrebbe anche potuto andare in collera, ma non era geloso e quindi non si arrabbiò. Passarono un certo tempo a bere e a mangiare e poi di nuovo col tassi tornarono in città ed un tratto la sfera affolgorante di Parigi fu dinanzi a loro e loro non sapevano che cosa farsene proprio come succede a quelle persone che non hanno nulla in comune e si sono incontrate soltanto per caso. La notte si apriva dinanzi a loro come un deserto troppo luminoso e non sapevano più che cosa farsene l'uno dell'altra dopo aver con leggerezza dissipato l'esperienza essenziale che è data un uomo e una donna. Così decisero per quella che è la risorsa degli uomini del nostro tempo quando non sanno cosa fare andare al cinema. E là sedevano e non c'era buio fondo e nemmeno buio semmai appena una certa penombra e si stringevano la mano la ragazza e il nostro amico Andreas ma stringendo la sua mano restava indifferente e lui stesso ne soffriva lui stesso. Così nell'intervallo decise di andare a bere qualcosa nell'atrio con la bella ragazza. E ci andarono e bevero il cinema non interessava più per nulla. Con una certa pressione tornarono all'albergo. La mattina d'opera domenica Andreas si svegliò consapevole del suo impegno di restituire il denaro. Si alciò più in fretta del giorno prima tanto in fretta che la bella ragazza si svegliò di soprassalto e gli chiese perché tanta fretta Andreas? Devo pagare un debito disse Andreas. Come oggi di domenica chiese la bella ragazza. Sì proprio oggi di domenica replicò Andreas. A chi gli devi questi soldi? A una donna o a un uomo? A una donna rispose Andreas esitando. Come si chiama? Teresa. A queste parole la bella ragazza saltò giù dal letto e con i pugni chiusi colpì Andreas al viso. Allora lui fuggì dalla camera e lasciò l'albergo e senza guardarsi più intorno si avviò verso Santa Maria di Batignol sapendo con certezza che quel giorno avrebbe potuto finalmente rendere i 200 franchi alla piccola Teresa. Vole la provvidenza o come direbbero le persone meno credenti il caso che ancora una volta Andreas arrivasse appena dopo la messa delle dieci ed era naturale che vedesse vicino alla chiesa il bistrò dove aveva bevuto l'ultima volta e così vi entrò di nuovo. Ordinò quindi da bere ma cauto comere come sono tutti i poveri di questo mondo anche se hanno vissuto miracoli su miracoli verificò innanzitutto se aveva davvero denaro sufficiente e tirò fuori il suo portafoglio. Allora si accorse che dei suoi 980 franchi non era rimasto più gran che. Aveva infatti soltanto 250 franchi ci pensò su e si rende conto che era stata la bella ragazza in albergo a prendergli soldi. Ma al nostro Andreas non importava nulla si disse che per ogni piacere bisogna pagare e lui aveva avuto il piacere e quindi doveva anche pagare. Era deciso ad aspettare lì finché suonassero le campane le campane della vicina cappella per andare alla messa e saldare finalmente il debito alla piccola santa. Intanto aveva voglia di bere e ordinò da bere. Bevve e quando le campane che invitavano alla messa cominciarono a rintronare lui chiamò cameriere vorrei pagare. Pagò si alzò uscì fuori e subito davanti la porta si scontrò con un uomo enorme dalle spalle molto larghe. Lui lo chiamò subito per nome. Wojtek e l'altro grido allo stesso tempo. Andreas! Si gettarono l'uno nelle braccia dell'altro erano stati insieme i minatori a Quebec insieme tutti e due nella stessa miniera. Aspettami qui se vuoi disse Andreas solo 20 minuti il tempo della messa non un minuto di più. Questo poi no disse Wojtek. Da quando è che vai a messa? Io non sopporto i preti e tantomeno la gente che va dai preti. Ma io vado dalla piccola Teresa disse Andreas. Le devo dei soldi. Vuoi dire la piccola santa Teresa? chiese Wojtek. Si proprio lei rispose Andreas. E quanto le devi? chiese Wojtek. 200 franchi disse Andreas. Allora ti accompagno disse Wojtek. Le campane continuavano a rintronare. Andarono in una volta entrati appena cominciata la messa Wojtek bisbigliò. Dammi subito 100 franchi. Mi viene in mente ora che fuori c'è uno che mi aspetta. Altrimenti vado a finire in prigione. Senza esitare Andreas gli diede tutti e due i biglietti da 100 franchi che ancora possedeva e disse vengo subito anch'io. E poi rendendosi conto che non gli rimanevano più soldi da restituire alla piccola Teresa pensò che non aveva senso assistere ancora alla messa. Aspettò qualche minuto soltanto per decenza e poi andò dall'altra parte della piazza nel bistro dove Wojtek aspettava. Da quel momento in poi erano compagni per la pelle in tutto e per tutto. Questa fu la promessa reciproca che si fecero. Era chiaro che l'amico cui Wojtek avrebbe dovuto i soldi non esisteva. Dei due biglietti da 100 franchi che Andreas gli aveva prestato uno lo nascose con cura nel fazzoletto e ci fece un nodo. Con gli altri 100 franchi invitò Andreas a bere e ancora una volta a bere e la notte andarono in quella casa dove c'erano le ragazze compiacenti e vi rimasero entrambi per tre giorni. E quando ne uscirono di nuovo era martedì e Wojtek si separò da Andreas con queste parole ci rivediamo domenica stessa ora stesso posto stessa piazza. Ciao disse Andreas, ciao disse Wojtek e sparì. Era un pomeriggio piovoso di martedì e pioveva così fito che un attimo dopo Wojtek era addirittura sparito o almeno così sembrò ad Andreas. Gli sembrò di aver perduto il suo amico nella pioggia proprio come per caso lo aveva incontrato e poiché era ormai senza soldi a parte 35 franchi ed era convinto che il destino lo viziasse sicuro che altri miracoli gli sarebbero ancora capitati decise come fanno tutti i poveri bevitori impenitenti di affidarsi di nuovo a Dio all'unico in cui credeva. Andò quindi alla Senna e scese la solita scala che conduceva alla residenza dei vagabondi. Lì si imbatte in un uomo in procinto di salire la scala che gli parvi di conoscere molto bene. Perciò Andreas lo salutò cortesemente. Era un signor anziano dall'aria curata che si fermò osservò Andreas con attenzione e chiese infine. Ha bisogno di soldi caro signore? Dalla voce Andreas riconobbe quel signore che aveva incontrato tre settimane prima. E così disse. Ricordo bene di essere ancora in debito verso di lei. Dovevo restituire il denaro alla Santa Teresa ma sa nel frattempo sono successe tante cose e già due volte mi è stato impossibile restituirlo. Ma si sbaglia disse l'anziano signore ben vestito. Non ho l'onore di conoscerla. Mi scambio evidentemente con qualcun altro ma comunque mi pare che lei si trovi in difficoltà. E riguardo la Santa Teresa di cui parla ora io le sono tanto obbligato umanamente che posso senz'altro anticiparle il denaro che lei le deve. Di quanto si tratta? Di 200 franchi rispose Andreas. Ma scusi lei non mi conosce neppure. Io sono un uomo d'onore però lei non ha nemmeno la possibilità di sollecitarmi la restituzione perché è vero il mio onore ce l'ho ma non ho un indirizzo. Dormo sotto uno di questi ponti. E cosa importa disse il signore. Anch'io dormo là di solito e lei accettando questi soldi mi fa davvero un piacere di cui non le sarò mai abbastanza riconoscente perché anch'io sono tanto devoto alla piccola Santa Teresa. Allora disse Andreas sono senz'altro a sua disposizione. Prese i soldi aspettò un po' finché il signore fu salito su per gli scalini e poi salì anche lui per i medesimi scalini e si recò per la via più breve nella rue de Quatre Vans al suo vecchio ristorante russo armeno Tari Bari e lì rimase fino a sabato sera. Allora si ricordò che l'indomani era domenica e che doveva andare nella cappella di Santa Maria di Batignol. Il Tari Bari era pieno di gente perché molti che non avevano un tetto ci dormivano di giorno e di notte. Di giorno dietro il banco e di notte sdraiati sui sedili imbottiti. Andreas si alzò prestissimo la domenica non tanto per pora di perdere la messa quanto perché temeva che il padrone gli avrebbe chiesto di pagare le bevande, il vitto e l'alloggio di tutti quei giorni. Ma si sbagliava e il padrone si era già alzato molto prima di lui. Il padrone lo conosceva da tempo e sapeva che Andreas tendeva a cogliere ogni occasione per evitare di pagare. Cosicché il nostro amico fu obbligato a pagare lautamente i pasti e bevande da martedì a domenica e anche molto più di quanto avesse in realtà bevuto e mangiato perché il padrone del Tari Bari sapeva distinguere quali dei suoi clienti erano bravi a far di conto e quali no. E il nostro Andreas apparteneva a quelli che non erano bravi come succede a molti bevitori. Andreas sborsò quindi gran parte del denaro che aveva con sé e ciò nonostante si avviò verso la cappella di Santa Maria di Batignol. Ma sapeva bene di non avere più abbastanza soldi per restituire tutta la somma alla Santa Teresa e pensava pure al suo amico Wojtek con cui aveva appuntamento né più né meno di quanto pensava alla sua piccola creditrice. Così arrivò davanti alla cappella e purtroppo di nuovo la messa delle dieci era finita e ancora una volta gli veniva incontro il fiume della gente e quando per abitudine prese la via del bistrò si sentì chiamare da dietro e di colpo avvertì una mano robusta sulla spalla. Voltandosi vide che era un poliziotto. Il nostro Andreas che noi sappiamo come molta gente della sua specie non possedeva documenti si spaventò e già si toccava in tasca solo per dare l'impressione di avere qualche documento valido ma il poliziotto disse so già cosa state cercando e il suo portafoglio che appena ha perduto è inutile che lo cerchi in tasca eccolo qua e questo succede aggiunse scherzoso se la domenica già di prima mattina si sono bevuti tanti aperitivi. Andreas afferrò il portafoglio ebbe a malapena la calma necessaria per sollevare un po' il cappello e se ne andò di filato nel bistro di fronte. Là c'era già Wojtek e non lo riconobbe alla prima occhiata ma solo dopo un momento in compenso il saluto del nostro Andreas fu tanto più affettuoso e non la finivano più di invitarsi in un altro a prendere posto. Wojtek gentile come era la maggior parte delle persone si assò dal sedile imbottito per offrire ad Andreas il posto d'onore e vacillante com'era fece il giro del tavolo. Gli si sedette di fronte su una sedia e si mise a dire tante gentilezze. Bevero soltanto per no. Mi è di nuovo successo un fatto straordinario disse Andreas. Mentre sto per venire qui al nostro appuntamento un poliziotto mi mette la mano sulla spalla e mi dice ha perduto il suo portafoglio e me ne dà uno che non è affatto mio. Io me lo metto in tasca e adesso voglio vedere di che cosa si tratta e con ciò tira fuori il portafogli e guarda. Ci sono dentro alcune carte che non lo interessano per nulla e trova anche del denaro. Conta i biglietti sono esattamente 200 franchi. A questo punto Andreas esclama. Vedi è un segno di Dio ora attraverso la piazza e pago finalmente il mio debito. Mai ancora tempo per farlo fino a che termina la messa replicò Wojtek. Che bisogno hai della messa? Tanto durante la messa non puoi restituire il denaro. Dopo andrà in sagrestia e nel frattempo beviamo. Sì certo come vuoi disse Andreas. In quel momento si aprì la porta e mentre avvertivo un terribile dolore al cuore e una grande debolezza al capo Andreas vide che era entrata una ragazzina e che si sereva proprio di fronte a lui sul sedile imbottito. Era giovanissima, giovane come gli pareva non fosse mai stata nessuna ragazza veduta prima ed era completamente vestita di colore blu cielo. Era blu come lo può essere solo il cielo in certi giorni e soltanto in quelli benedetti. Andreas si avvicinò barcollando, si inchinò alla bambina e le disse che cosa fai qui? Aspetto i miei genitori che escono ora dalla messa, vengono a prendermi qui e questo succede ogni quattro domeniche, lei disse ed era tutta intimidita dall'uomo anziano che le si era rivolto così di improvviso. Aveva un po' paura di lui. Andreas le chiese, come si chiama? Teresa rispose lei, ah esclama Andreas, ma questo è bellissimo, non avrei mai pensato che una così grande e così piccola santa, una così grande e così piccola accreditrice mi concedesse l'onore di venire a cercare dopo che ho tardato tanto ad andare da lei. Non capisco le sue parole, disse la piccola signorina un po' confusa. E' solo la sua delicatezza, replicò l'or Andreas, e' solo la sua delicatezza, ma la so apprezzare. Da tanto tempo io le devo duecento franchi e non mi è più riuscito di restituirgli a signorina santa. Lei non mi deve affatto di soldi, ma io ne ho un po' nel borsellino, li prende e vada via, che stanno per arrivare i miei genitori. E conciò tolse dal suo borsellino cento franchi. Tutta la scena voite clavide nello specchio e si alzò barcollando dalla sua sedia, ordinò due per nod e voleva subito a trascinare al banco il nostro Andreas perché bevesse con lui. Ma appena Andreas fa per avvicinarsi al banco cade a terra, di schianto, e tutti nel bistro si spaventano, anche Wojtek, ma più di tutti la ragazza di nome Teresa. E poiché lì vicino non c'è un medico né una farmacia, i camerieri lo trascinano nella cappella, anzi nella sagrestia, dato che i preti sanno bene qualcosa del morire e della morte, come, dopotutto, credevano gli stessi miscredenti camerieri, e la signorina di nome Teresa non può fare a meno di andare con loro. Il nostro povero Andreas viene portato dunque nella sagrestia e purtroppo non riesce più a parlare. Fa solo un gesto, come per toccarsi nella tasca sinistra interna della giacca, dove il denaro che deve alla piccola creditrice e dice, signorina Teresa, del suo ultimo sospiro e muore. Conceda a Dio, a tutti noi, a noi bevitori, una morte così lieve e bella.